Sabato scorso il Lions Club Caltanissetta dei Castelli e il Lions Club Caltanissetta hanno donato due biciclette all'istituto penale per minorenni di Caltanissetta. Avendo saputo che due ragazzi dell'istituto in base all'articolo 21 svolgevano attività educativa fuori dall'istituto penale minorile di Via Turati e in tutta altra parte della città, con chiare difficoltà organizzative di spostamento i due club del Lions hanno unito le forze ed hanno donato due biciclette che consentiranno facilità di movimento. Al momento della consegna tre rappresentanti di ogni club autorizzati dal magistrato di sorveglianza hanno consegnato le biciclette alla presenza del direttore Girolamo Monaco ed è responsabile della struttura e hanno potuto anche incontrare i giovani ospiti spiegando loro cos'è il Lions Club, di cosa si occupa, del perché di questa donazione e della necessità di essere tutti solidali. Il carcere, l'istituto penale per i minorenni è dentro questa città, non è esterno alla città e a un certo punto dopo l'estrema chiusura del Covid è nata l'esigenza di aprirsi al territorio così come la legge ci chiede, così come ci chiede soprattutto il mandato per quanto riguarda i minorenni cioè un'integrazione con il territorio. Noi abbiamo diversi percorsi, in cosiddetto articolo 21, il lavoro all'esterno, abbiamo avviato ragazzi a studiare per completare il ciclo scolastico fuori, alcuni ragazzi hanno partecipato a dei progetti, finché i progetti sono stati vicini e li abbiamo potuti realizzare nella semplicità, persone che uscivano e rientravano. Quando a un certo punto non abbiamo avuto la possibilità abbiamo chiesto, non avevamo la possibilità per questioni burocratiche, per questioni ragionelle, di comprarle queste biciclette, li abbiamo chiesto. I Lions non sono stati molto disponibili. Anche l'idea della bicicletta mi piace, la bicicletta che pedala, dal senso del sudore, della fatica, perché l'Istituto Penale per i Minorenni è un percorso di riappropriazione dei bisogni e dei problemi educativi che ogni persona ha avuto, i minorenni in particolare. Questo è un istituto piccolo perché ha un massimo di 12 utenti, però il grande investimento politico, sociale, su questi minorenni rende conto di un cambiamento possibile. Educare significa cambiare. A partire dai piccoli progetti, alcuni sono molto simbolici, come per esempio, lo devo dire, il progetto sul riciclaggio, sul rifiuto. Il rifiuto materiale, ma anche sociale, il cosiddetto rifiuto, si può riciclare. Ecco, abbiamo decorato un albero di Natale con degli oggetti in plastica fatti dai nostri ragazzi. Dentro il carcere c'è tutta una vita, si riprende il percorso scolastico. Noi qui abbiamo cittadini italiani che non sanno leggere, non sanno leggere, firmano a stampadello come gli immigrati. Quindi abbiamo noi due sezioni, una di alfabetizzazione e una di scuola media. Quindi un grosso lavoro educativo, un grosso lavoro per il recupero di queste persone che sono figli di questa società.